Buon pomeriggio sbarbatori seriali e popolo di YouTube Oggi, oggi, speciale video per unboxing e nuovi prodotti miei arrivati e tutto quanto Ma prima di cominciare, a voi non costa niente A me e al mio collega Enrico Merlini fa molto piacere Mettete un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi e attivate la campanella qui sotto al canale YouTube E che dire Proseguiamo con l'unboxing Arrivato da Epoca Barberia Arrivato E proseguiamo con l'unboxing Ragazzi Nuovi prodottini Ok Nuovi prodottini Quindi non perdetevi Ecco qua Quindi non perdetevi i prossimi video Andremo a provare e recensire i prodotti Allora, riproviamo qua carta E buttiamo via Gentilmente offerti da Salvatore Castaldo Che è il proprietario di Epoca Barberia Campioncino di S.R.A.S.S. Essrasage, tallovato francese, questo è verte, couvert, nature, profumazione di verde che Buona, 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 molto estiva che ricorda la primavera, tutto quanto Poi, campioncino sempre di Essrasage, questo è azzurro, col mare, guardate che bella etichetta ragazzi Profumazione marina elegante, molto buona e non è da tutti ragazzi, campioncini da 10 grammi Non da 5, come fanno alcuni Poi, che cosa abbiamo qui? Un adesivo della Hux Un adesivo di Epoca Barberia ragazzi E andiamo avanti Allora ragazzi Sapone Prima sapone che andremo a recensire Prendremo la nuova formulazione di Hux Memento Mori Eccola qua, con la scalina dell'intensità Cioccolato, rum, caramello, caffè, zucchero, sandalwood, heliotropio Che è un legno Poi Relativo Relativo Dopo barba Alcolico, ha preso la versione alcolica Poi Andiamo a prendere Altro Altro Saponcino che a mio avviso ha una grafica stupenda Altro saponcino Master of Creations Che si chiama Depp Blue E' un tallovato Del Sud Africa Profumazione veramente buona Pasta Medio dura Che dire Profumazione buonissima Con Il suo Relativo Dopo barba Guardate che bello Che etichetta Bellissimo Poi Ultimo No, ultimo no E' qua ragazzi Una pergamena No, non è una pergamena Oh, che bellezza Guardate un po' qua Il Marchese Pennello in fibra sintetica Molto bella Molto bella Confezione elegante Tappo in metallo Con il suo Astucetto Veramente 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 Un qualcosa di Gratito Grazie a Grazie a Salvatore Castaldo E Arriva così Scusate Scusate ragazzi Non voglio Ecco qua Ecco qua Bello Con il suo Adesilino del Marchese Ragazzi Quindi Non c'è niente Quindi ragazzi A breve Avremo Questi nuovi prodotti Un pennello 2 set Da provare Grazie a tutti I guanti Sbarbatori Seriali E vi ricordo Anche il gruppo Su Facebook Che vi lascerò In descrizione Nel link Qui sotto Al video Grazie a tutti E Grazie Tante Ancora Epoca Barberia Tanto di Cappello Ciao ragazzi